Siamo con Giulio Tonelatti dopo la vittoria della Capitolina sul Colleferro. Allora Giulio, sensazioni e emozioni di questo secondo esordio? Vabbè, è stata veramente una grande emozione. Ho detto ai ragazzi prima della partita che mi sembrava strano, ma rimettere questi colori dopo otto anni mi ha fatto battere il cuore veramente tanto. È stato un'onore per me rimettere la maglietta, sono molto orgoglioso. Ho detto grazie ai ragazzi per avermi accolto nella squadra. Comunque non essendo presente tutto l'anno è stato un bel segno da parte loro, da parte dello staff e di tutti quanti. Ringrazio tutti e non so ancora se sarà l'ultima o l'ultima, però è stato un bel ritorno veramente. Grazie Giulio.